Buonasera, buonasera a tutti e a tutti Buonasera Dolmen, buonasera Fresco E benvenuti a questa puntata di stasera Dove presenteremo Queer Gaze Corpi, storie e generi della televisione Arcobaleno Eccolo, c'è la Antonia che ce lo sta mostrando Non abbiamo ancora la copia fisica, però l'avremo Tablet per mostrare come se fosse Weer Gaze Sì, sì, dicono bello rivedere Antonia dopo la live turbolenta dell'altra volta Sì, infatti l'altra volta Antonia è stata ospite Purtroppo la live è andata un po' Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici Però speriamo che questa volta di riparci Non dovrebbero esserci Non mi volevano parlare Sì, 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 sempre Tra l'altro stiamo provando anche la nuova Ring Light Sì, sì, siamo attrezzatissimi Se ci vedete con una luce diversa E niente, stasera siamo qui per presentare Weer Gaze Con noi c'è Antonia che ha curato l'antologia Ed Elisa Manici e Nina Ferrante Che appunto sono attiviste E hanno scritto dei pezzi all'interno di Weer Gaze In particolare Nina un pezzo su Sense8 E da lì tutto un approfondimento su che cosa significa Sense8 Sia come manifesto di Netflix Sia tutta una riflessione rispetto alle nuove parentele E dopo approfondiremo meglio con lei E invece Elisa ha scritto un pezzo rispetto alla grassezza E alle correlazioni con la Queerness Insomma Leggo un po' i commenti in questa chat Non so, c'è un po' di rumore di sottopondo Sì, c'è un po' di rumore, scusate Sembra che sta diluviando in qualche modo, non so Infatti si sente comunque Però... Però diteci anche in chat se sentite bene audio I vari audio se sono sincronizzati bene Comunque Vogliamo iniziare con una piccola presentazione vostra a turno E rispetto a quello che fate, eccetera Chi vuole cominciare? Prego Ah, è un buoninato perché sta smisca Ok, comincia Nina, perfetto Prego Nina Abbiamo tutti la stessa visualizzazione dello schermo No, mi sa che è diverso Noi ti vediamo all'inizio, quindi Quindi cominci tu Vabbè Io sono Nina E sono una studiosa e un'attivista a Terrona In questo momento Ho un assegno di ricerca a UAB Per fare una compostiera E però, insomma, sono un'attivista E una studiosa di transfemminismo queer E lo vado a cercare In rappresentazione della tecnologia Dei nuovi media Della televisione E in generale è un appassionato di cultura pop Ok Poi abbiamo Elisa Io sono una giornalista e un'attivista E sicuramente sono una studiosa di fat queer activism E Tra le Ho collaborazioni random giornalistiche Quando ho tempo Però mi piace dire che Sono direttora E lo dico con vezzo Perché lo so che si è affermato di più direttrici Ma non me ne frega niente Dico direttora uguale Di una rivista che si chiama La Falla È una rivista Diciamo LGBT Perché è edita dal Castello di Bologna Con una linea editoriale Palesemente Ed evidentemente Autodichiaratamente Transfeminista Queer Ok Vai Antonia Antonia già è stata Nostra ospite Però appunto Ecco Dicci di più Però no Non è cambiato molto Dall'ultima volta Quindi Ho curato questa antologia Alla questo punto Se Elisa è direttore Sono un'editora Di editori minoritarie Per cui Sono anche Cioè Chi risponde come edizione minoritaria Su Twitch Sono io E Poi Scrivo cose Faccio un po' di dirette E Boh Leggo fumetti Vorrei fare la scena Gettrici fumetti E Basta Ho mangiato del pezzo Sorgelato Prima Ok Perfetto Perfetto Bene Comunque Approviamo Assolutamente Ricercatore Approvano Direttora Editora E c'è Tutti Tutti i termini Possibili Perfetto Che vogliamo utilizzare E declinare Al femminile Allora Partiamo un po' A parlare un po' Del libro Prima di tutto Come nasce Questa Antologia Lo chiederei Principalmente Prima D'Antonia Poi Appunto Se volete Rispondere Anche voi Dato che È stata La curatrice Di curatora 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 Di questa Antologia Quindi Da come Mi hai spiegato Comunque Un progetto Che nasce Qualche anno fa Quindi Come è nato Come si è evoluto E poi come Si è arrivati Ad avere il libro Che Insomma Stiamo presentando Stasera Potremmo anche Iniziare a chiamarlo Antologiora Volendo Perfetto Perfetto Praticamente È nato È successo Che All So Prefer Cake Di quasi tre anni fa Se non sbaglio Del 2018 Quindi Quasi tre anni Due anni e mezzo fa Sì Abbiamo fatto Un panel Insieme C'era Elisa Eugenio Fattori E Irene De Togni E Alice Non mi ricordo Alice C'era Che Tiera Vabbè Tanto tempo fa Mi ricordo Due ondate fa Due ondate fa Due ondate fa Prima di due ondate fa C'è stato Quindi È andato il video Come dire Sto parlando Gli editori Le editoresse Di Asterisco Hanno visto questo video In cui eravamo presenti E io ho fatto un panel Sulla rappresentazione trans E mi hanno chiesto Appunto di Di curare Quest'antologiora Che ha avuto Una gestazione Un po' lunga Diciamo Un paio d'anni Dovuti a Vali ritardi Poi insomma Nell'ultimo anno C'è di Andare in mezzo Anche Le due ondate Come fai 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 E quindi È iniziato La prima idea È stata Dobbiamo Per parlare Serie di Queer Ho bisogno di persone Queer O comunque Tutte le persone Coinvolte Erano E sono state Effettivamente Persone variamente Proce A me dispiace Sempre Dover Doverlo dire Però purtroppo Questa piattaforma Non ci permette Di utilizzare Determinate parole Anche in senso Riappropriativo Purtroppo Perché Solitamente Vengono utilizzate In senso Dispregiativo E quindi Se segnalate Possono portare Al ban Del canale Quindi Mi dispiace Dovervi Dovervi dire Questo Però Anche con Antonia Mi ricordavo dopo Perché l'altra volta Dicevo loce Sì Ok Quindi loce Va bene Loce va benissimo Proviamo loce Quindi Il primo criterio Era appunto Persone loce Che scrivessero Di essere loce E quindi Un po' Tra i miei contatti Un po' Tra i contatti Di contatti Ho cominciato a chiedere Un po' Ed è venuto Queer Games Ovviamente Dal momento Che ho chiesto Dal momento In cui è uscito Sono passate Varie stagioni Varie ondate Quindi Non sono Non sono proprio Le ultime serie Anche perché È impossibile Stare dietro A tutte le serie Non le faccio fatica Ho iniziato adesso A vedere i Sopranos Che è uscita Le notte Nove Quindi Sono un po' I miei tempi Insomma Però Forse Si può cifra Che ci sia Anche un volume Due Speriamo bene Intanto Sta andando Bene Come vendita Questo è importante Per la casa editrice Che è Asterisco Sono Compagni e compagni Eloce Che stanno a Milano Che hanno Un bellissimo catalogo Questo lo dico Più sinceramente Già fan Prima di Liquid Gay E E quindi Cioè diciamo che Quello che è venuto fuori È stato Anche Abbastanza Da un punto di vista politico Abbastanza omogeneo Senza volerlo Cioè in realtà Ho chiamato anche Delle persone Che sapessero Che condividessero Un minimo Divisione Transfeminista Transfeminista Queer Perché altrimenti Siamo lì Con Esaltazioni Un po' inutili Diciamo Del Rainbow Washing E Direi che Come introduzione Se non Mi posso fermare qui Lasciare la parola Ok Intanto Io ho linkato In chat Il Il link Al libro Per acquistarlo Sul sito Di Asterisco Edizioni Se Se volete Se chi è collegato Con noi Volete dare Un'occhiata Comunque Quello Il link Sarà Magari Spammato Altre volte Stasera Ok Ovviamente Qui stasera Abbiamo con noi Nina Ed Elisa Che sono Solo due Delle autrici Dei vari Saggi Saggi presenti All'interno Di Queer Gates Dove Ognuno Dei saggi Diciamo Si sofferma Su Un tipo Di rappresentazione Fa un approfondimento Su un tipo Di rappresentazione Specifica Chi vuole Iniziare Di voi Due Magari Un po A parlare Anche voi Un po Del vostro pezzo E di Questo libro Se State contente Di Farlo E come Si evolverà Insomma Vai Nina Vai Nina Vai D'occhio a te A quanto vale Devo mettere Tipo Devo imparare A mettere Il maglione Nero Come Quando andavo All'università Tipo Quando fanno Le domande Così Ma Maglione Troppo colorato E A me Anche Ho chiesto di scrivere Penso la biblioteca Delle donne Ho chiesto di scrivere Tutta la biblioteca Delle donne Cosa Ho chiesto di scrivere Tutta la biblioteca Delle donne No Mi ha chiesto di scrivere Questo saggio Che eravamo La biblioteca Delle donne Bologna Quando ancora Era questo bellissimo E Insomma Io Leggevo Le sue cose Quindi Sono stata Molto contenta Che mi abbia Convolta In questo Progetto E Devo dire Che comunque Da quando Me l'aveva chiesto A Quando Poi Effettivamente Questa cosa Mi sono ritrovata Che in realtà Avevo scritto Già Altre cose Su Questa Sede Su Sense8 E Ad un certo punto Mi sentivo Anche come se Ne avessi Anche già detto Già un po' Consumato Questo argomento Però devo dire Che Anto È stata l'unica A darmi la possibilità Di poter pubblicare Sulla parte Veramente critica Della Della serie Che mi sembrava Di non Che era Diciamo Quella Che più Mi era rimasta Un po' Dalle nostre parti Si dice Gun Cioè Mi aveva dato fastidio Mi era rimasta qui Che era la questione Dell'omonozionalismo E che era diventata Ancora più intollerabile Dopo L'ultima Puntata Conclusiva In cui Diciamo Tutta la vicenda Che poteva Ruotare Intorno Ad un Grande Mistero Futuristico Grandi case Farmaceutiche Matrix O cos'è del genere Invece si risolve Che è la camorra E insomma Il sistema I mandolini Gli spaghetti Lo spara spara E quindi La ringrazio Di avermi dato La possibilità Di poter Intrecciare L'ultima parte La più cinica Mi dispiace Forse Di averci messo Quella più Innamorata Della stagione Cioè Della serie Intera Che è quella Delle Delle Nostate Ancchiate Si può dire Ok Ancchiate Si si Direi di si 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 Ora inizia Sempre Il si può dire Si può dire Il si può dire Non so Non so Quanto entrarci Aspetto alle domande Che ci stiamo facendo Si 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 Sì era un po' Di introduzione Una panoramica Un po' Su tutto il volume Prima di addentrarci Negli argomenti Specifici Invece Tu Elisa Come è nato E come si è voluto Il tuo pezzo E come vedi il libro Nel suo complesso Se ti è piaciuto Se non ti è piaciuto Io lo chiedo Perché scusa Mi è piaciuto Mi è piaciuto No mi ha fatto orrore Mi è piaciuto Quindi Io e Antonia Siamo anche amiche Nella vita privata Oltre ad avere Quello che per me È una molto feconda Collaborazione Interscambio culturale Da quando ci conosciamo E eravamo entrambe Ospiti nel panel Del Sun Prefer Cake 2018 E quando le hanno proposto Questa curatela Mi ha subito chiesto Di scrivere Un piccolo Un breve saggio E io sono felicissima Di tutto il libro Proprio per questo Sguardo queer Di persone queer Perché anche se Io sono una di quelle Che poi magari Lo diremo dopo Sostengo che alla fine Almeno in teoria Tutti possono fare tutto È chiaro Che in realtà Siamo soverchiate Diciamo Anche solo Dai C7 Produttori Che spesso Magari ottengono più spazio Di noi Sulle testate Per parlare di cose Molto banalmente Molto terra terra Quindi è chiaro Che sono felicissima Di questo libro E inoltre E inoltre Non dire aggravato Da un punto di vista Negativo Perché questi poveri ragazzi 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 non possono fare niente E nella loro depressione Si dispano di visioni Quindi meglio Si incontrano visioni Positive Verso tutte le rappresentazioni Che robe Di prestige television E maschi bianchi C7 Eccetera Quindi certo Sono contentissima Per quanto riguarda Il mio specifico Delle grasse Sono ancora più Più contenta Perché Questa Che io sappia È Tipo la prima Pubblicazione Saggistica Con un saggio Che parli Di rappresentazione Di grasse O di grasse Scritto da un'italiana In italiano Pochi giorni prima Dell'uscita di questo libro È uscita per Tron La traduzione Di un'opera americana Che si chiama Fat Shame Però Non era mai uscito Niente In italiano Fino a queste mie Dieci pagine In questo libro Per cui sì Nel mio piccolo Mi sento La donna grassa Sulla luna E ne sono molto felice In modo Allegramente Egoico Spero che questo Faccia anche del bene A chi inizia a leggere Di questo tema Super stigmatizzato Sì sì E allora Complimenti Comunque Dato che È la prima cosa Che riusciamo a leggere In italiano Da una persona italiana Che scrive del tema È davvero Molto molto importante Anche perché Solitamente Poi lo sguardo Che ci arriva A parte che La maggior parte Cioè il 99% Sono produzioni straniere Sì La critica Che ci arriva È sempre Di produzione straniera Quindi comunque Parlarne anche Con il nostro sguardo Da qui Dall'Italia Dove ci arriva Tutto Meglio Cioè meglio Ancora Ancora più importante Allora Io inizierei Dal Parlare un po' In primis Del concetto Di queer Perché c'è Antonia Nell'introduzione Che definisce Il queer Come Antinormativo Anticapitalista Antidentitario Antiassimilazionista E anti-binario Ok Quindi Misceriamo un po' Tutte Tutte queste Anti Così da riuscire A capire meglio A questo punto Che cosa significa Queer Gates In generale Sì Intanto ho messo Ho messo in chat Una cosa che avevo trovato Su orgoglio bisessuale Che sono delle statistiche Della rappresentazione Dei vari Diciamo Sì In proposito Dei cister Bianchi Cioè sono tipo Così 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 Per avere Diciamo Un riguardo numerico Anche se non sono Una grande fan Degli numeri Però ogni tanto Possono Possono servire Insomma Anche perché Ci sono dei dati E quindi Ci siamo Chiari Quei grafici Graficetti Vanno un po' più chiaro Ci tengo a dire Che Come dire Lo sguardo Lo sguardo queer Non è Non è Non è Non è Lo sguardo Che è uguale Allo sguardo LGBT Nel senso che Tutti quegli anti È un posizionamento politico Che Se rifacciamo un po' A quello che Che era un po' L'idea di queer Negli anni 90 Un po' Solo che adesso L'etichetta queer Diventa un po' Una sorta di Sinonimo Di Di LGBT Che non è esattamente La stessa Però Sono cose Sono cambiamenti semantici Che ogni tanto Succedono Però Possono sempre Riportare Si possono Sempre Portalizzare Ogni volta Il significato Di qualcosa E Lisa Ridi Perché No Rido Perché Noi ci succhiamo queer Come Noi povere lesbiche queer Ma di una certa età Ci succhiamo il fatto Che ora Saffico Non è più Un sinonimo di lesbico Ma per le ventenni Saffico sta specificamente A indicare Donne che hanno Relazioni sentimentali Barra erotiche Ma che non si definiscono Lesbiche Questa cosa del queer Che ormai è un po' Un sinonimo di LGBT Che purtroppo è vero Ce la dobbiamo succare Perché non possiamo fare niente Contro l'uso Delle parole Da parte delle persone No Lo devo Perché mi veniva in mente Una battaglia Che non ho combattuto Ho risposto una volta A un commento E poi mai più Sul fatto che Le ventenni lesbiche Che vanno anche Con le donne Di adesso Dicono Lesbica È solo una relazione Tra due persone Che si definiscono lesbiche Mentre Saffica Che fino a ieri Era un sinonimo Di lesbica È Invece sta a indicare Specificamente Una relazione Tra due donne Che però Non è detto Che si definiscano Lesbiche Quindi non so Una bisessuale E una pansessuale Una pansessuale E una lesbica Insieme Sono saffiche Non sono più lesbiche Non so Hai chiesto a me? Sì Ma No Tra l'altro Mi serviva moltissimo Questo disclaimer Perché Diciamo Sono finita recentemente Su un gruppo Facebook Di cui non avevo Evidentemente Queste coordinate Per interpretare bene Che cosa stesse Succedendo sotto i miei occhi Quindi Grazie Come sempre Tra l'altro Ho un naso Grandissimo Rispetto a queste cose Grazie Adesso Leggerò tutto Con un altro occhio Posso aggiungere una cosa Su Queer Su questa cosa Che Se Queer Fosse interpretato Come lo interpreto Io adesso Non è che voglio Per forza Allargarlo Anche Danto Lisa Però Evidentemente Non si potrebbe dire Su questa piattaforma Cioè Perché Cioè Nasce Da una riproduzione Di un insulto E se non diventa Quella copertina patinata Che va bene Su tutte le cose E soprattutto È una roba Talmente sbrilluccicante Che non ti fa leggere Quello che c'è dietro Evidentemente C'è qualcosa Che non va Perché Queer Dovrebbe essere invece Proprio tutte quelle cose Che non possiamo Che non possiamo dire Poi Diciamo Anto Brillantemente È riuscito A declinarlo Politicamente Mancava anche Antipatiche Comunque Però È innanzitutto Quello che è Intollerabile Inassimilabile Insopportabile Mi seguo Facciamo tutte con Inna adesso Rifacciamo Il secondo volume Invece Tutti Quanti È Inna Ok Io aggiungo Sul Pir Che per me È stata Una prospettiva Non vorrei usare parole Troppo altisonanti Però Filosofica Ideologica Di enorme libertà Pur se Di poca felicità Perché Quando poi arrivi A Essere convinto Di certe cose A teorizzare Certe cose È chiaro Che poi La realtà Che ti circonda È ancora più Orribile Di prima Diciamo Che Quanto dire Comunque È quanto dire Che è ancora più Orribile C'è una sorta Di consapevolezza Di fondo Poi Che ti porta Ad analizzare La realtà Con Sì Degli elementi Cioè Delle tecniche Ancora più Che la rendono Ancora peggio Di quello che sembra Poi Alla fine Che non è che Sembri Sì È una capriola storta Che ti fa Lanciare uno sguardo storto E guardare storto Il mondo Che ti sembrerà Ancora più storto Tutto storto Allora C'era Dolmen In chat Che faceva Una domanda Sì A proposito Di importanza Delle rappresentazioni Quando si è Piccoli Piccole Piccoli Rispetto Penso a quello Che diceva Elisa prima Che personaggi Queer O LGBT Più Ricordate Della vostra Gioventù Io mi ero Attaccata Amolbosamente A skins Che a rivederlo Oggi Ai suoi limiti Io il mio personaggio Sette circa Quegli anni là Sì Nina vuoi rispondere tu? Io ho visto Non so Forse più che un personaggio Devo dire Io ho capito Che c'era qualcosa Non che non andava Ma che andava molto bene Guardando Crazy Il video di Crazy Degli Aerosmith In cui c'era questa dinamica Tra queste due ragazze Io ogni volta Che le guardavo Non devo essere lesbica Non devo essere lesbica Non devo essere lesbica Non ha funzionato Questa parte Era la cosa più interessante Che prima ancora Che ci fossero Dei personaggi legittimi Che ci davano La possibilità Di poterci immaginare Nel mondo C'era la possibilità Di riuscire A scoprirli A immaginarseli Dove Noi li riuscivamo a vedere Quindi ovunque E devo dire Che i videoclip Forse avevano Molti personaggi Diciamo queer Volontariamente O meno Perché Io vi do una prospettiva Intergenerazionale Perché sono più vecchiesca Di tutti voi E quando io ero ragazzina Proprio ragazzina Non c'era internet Non c'erano personaggi LGBT Più fondamentalmente Io ho fatto coming out Prestissimo Per la mia generazione A 16 anni E Ho passato Tutto il resto Dell'adolescenza A cercare rappresentazioni A dragare le librerie A leggere tra le righe Delle trame Dei film Nelle videoteche Per vedere Se potevo trovare cose Quindi io non ho Un personaggio Ma c'ho la mia ricerca Certosina Di rappresentazioni Dignitose E uno dei primi film Che ho visto Scovato così In videoteche Che mi ha fatto Impazzire È stato Cuori nel deserto Che ho scoperto Poi Essere Il primo film Lesbico Che finisce bene Nella storia Dei film E Un film Del 95 E Io l'avrò visto Non so Nel 92 E Mi era sembrato La cosa più fantastica Del mondo E Sicuramente Un'altra ancora Di salvezza Dell'adolescenza Oltre a sconosciuti Fumetti Giapponesi Che manco vi cito Perché Non credo Che nessuno Se li Possa cacare E Uno si chiamava Era una salva Di Graphic novel Esteso In tre volumi Che si chiamava Chirality E Una fantascienza Distopica Va beh Insomma Filmone Di Purtroppo Uscito Tagliato Durante la mia Adolescenza Ma Pietra miliare Pomodori Verdi Fritti Io Ho visto Il trailer Della versione Non tagliata Su una tv locale E sono tipo Impazzita Avevo 16 anni Così Cos'ho visto Cos'ho visto Cos'ho visto Sono andata al cinema Non c'era la scena Del trailer Per favore Fatelo uscire Sono passati Trent'anni Fatelo uscire Però poi ho comprato Il libro Nel libro C'era Per niente Sessualmente Raccontato Come avrei Desiderato Però C'era Esplice Il rapporto Tra Igi E Ruth E quindi Io l'avrò letto 150 milioni di volte E quindi I personaggi Me li dovevo cercare Quindi capite che Con i miei occhi Questa di oggi Con le nostre percentuali Piccole piccole Nei report annuali GLAD Mi sembra già Un'età dell'abbondanza Tutto Somma Sì C'è Comunque È stata Un'esplosione Di personaggi LGBT Poi Dopo andremo a vedere Queer Comunque Nello specifico Che Senza confondere I due termini Come Come dicevate Anche voi prima E poi Tra l'altro C'è Questa Questa mostra Questo discorso Che stiamo facendo Riguardo Alla vostra Adolescenza Comunque Vissuta In anni Diversi Da quelli Attuali Mostra Quanto In realtà C'è appunto Le persone Queer E LGBT Fossero Pochissimo Rappresentate E se Rappresentate Utilizzate In In modi Che appunto Non permettevano Sia a una persona Queer Di rivedersi O comunque Rivedersi poco In quello Che guardava Attraverso Lo schermo E quindi L'impossibilità Di Utilizzare Questi elementi Anche per Costruire Aiutare Alla costruzione Della propria Identità Sia per le persone Poi Etero Cis Che appunto Truendo Di quelle Rappresentazioni Continuano Ad avere Un'idea Distorta Delle persone Queer Delle persone Trans Delle persone LGBT In generale Quindi Tra l'altro Ieri sera Abbiamo visto Anche Disclosure Lo dicevo Lo dicevo Ad Antonia Un po' Per prepararci Oltre al libro Anche per stasera È un documentario Su Netflix Molto interessante Che parla Nello specifico Di rappresentazione Trans Però comunque Penso che Il discorso Che viene fatto E il modo In cui Vengono utilizzati I personaggi Trans Sia Un po' Condivisibile Anche Dai Dai personaggi LGBT In generale Cioè Poi Chiaramente C'è un discorso Comunque Che riguarda L'homonormatività Di cui parlava Anche Nina E di cui si parla Nel saggio Però Diciamo che In generale C'è stata Questa tendenza Che è ancora Oggi presente A fornire Delle rappresentazioni Molto Molto Parziali O Totalmente Sbagliate E E questo ha causato Delle conseguenze Importanti Nel momento In cui Magari L'unico modo Con cui Veniamo a contatto Con persone Queer O LGBT In alcuni casi È la rappresentazione Mediatica Ok C'era una domanda In chat Rispetto Sempre a prima La questione Queer Anti-identitario E anti-capitalista Eccetera Ma prima Se ho capito bene Si diceva Queer Tra le altre cose Come anti-identitario Potete spiegare Che si intende In generale Se potete dare La vostra definizione Di queer Anche nel senso Di sguardo Come propone Il titolo Del libro E come pensate Venga interpretato Nel mainstream Non ho capito Come viene confuso Con LGBT Allora La domanda Comunque Che volevo fare prima Che avevo fatto prima Era un po' Spiegare Anche per voi Che cosa significa Queer In parte Avete risposto Magari Appunto Zenzero Rispondiamo meglio Alla domanda Di Zenzero E soprattutto Chiedeva Rispetto Alla questione Anti-identitario Posso provare A dire due frasi Bignami Perché Pensando A una persona Che non sa Assolutamente Niente Di che cosa Passa essere Il queer Mi viene da dire Due frasi Che per le mie Colleghe Sicuramente Sono trite E ritrite Non uccidetevi Ma mettetevi Nei panni Di chi potrebbe Non saperne niente Mi viene da dire Che il queer È quella corrente Di pensiero Che vede Quasi tutto Praticamente tutto Dell'essere umano Come performatività Non uomo Non donna Non lesbica Non gay Non bisessuale Eccetera Eccetera Come elemento costitutivo Della tua identità A livello ontologico Ma tutto Una performance Un claim Classico Del queer E lasciamo nudi Il resto È drag Per cercare Di farsi capire Ok Tipo Quindi è un po' Una logica Un po' Come dire Molto sfumata Non è nemmeno Un termine ombrello Come può essere Che ne so Trans Che è sotto A varie Diciamo Soggettività È proprio Un'idea Di diffusa Quasi nebulizzata Di Identità possibili E probabili Ma anche E soprattutto Improbabili Perché Quindi Cioè nel senso Anche Metterlo Anche Il problema Che quando si parla Della sigla LGBTQI Non tutte le sigle Cioè non tutte le lettere Hanno la stessa Nella stessa Come dire Tipologia di percorso E nella stessa Tipologia di Né di Di discriminazione Né di Appunto Essenza In un certo senso Che è un discorso Certo Se non voglio dire Un discorso essenzialista Però sono cose Che sono anche Molto diverse E per chi è fuori Vedendole insieme Nella stessa sigla Può far pensare Che abbiano lo stesso Che abbiano la differenza In tutti i casi Invece non è così E questa è una cosa Che non mi confonde Molto Perché Ogni Lettera Ha una storia Lunghissima E Diverse Che hanno fatto in modo Varie storie Che hanno fatto in modo Di arrivare a quel punto Cioè Che ne so Essere gay Quella G lì Ha tantissime cose Che hanno Che in questo momento Significa Significa Quella G Ma era Cambio continuamente Anche Perché Perché essere gay Quest'anno È diverso Da essere gay Trent'anni fa Però Sono dei È un processo storico Che in realtà Una volta che Tu vedi solo una letterina Non sai bene Cogliere Non so se Ho attaccato Un po' Una pippa Però No 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 Vai Sì 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 Posso attaccarmi All'attaccata di pippa Vai 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 Assolutamente Vai Perché la volevo Ricondire Cioè Sono molto d'accordo Con la prospettiva Che aveva Aggiunto Adesso Anto Quella di Edisa Perché Credo che forse Sia importante Anche Cioè Capire Che cosa Significa Identità E Antidentitario Per renderlo Un pochino Più chiaro Cioè Nel senso Che Solitamente Sia Nei posti Dell'università Dell'accademia Che della politica Cioè Si parlava Del soggetto Il soggetto Ed era sempre Uguale Era un maschio Bianco Della classe operaia Cioè Era l'unico No Poi a un certo punto Sono entrate In questa stanza Dirompendo Sono entrate Le persone Sono entrate Le donne Sono entrate Le persone nere Ok E quindi Diciamo Questo è l'inizio Delle politiche Dell'identità E man mano In questa stanza Hanno incominciato A rompere No Le soggettività Quindi sono entrate Sono entrati gay Poi le lesbiche Sono riuscite A fare il loro punto No Sulla Sulla differenza No Man mano Entravano Però Come Diceva Anto È un percorso storico Che racconta Di un'identità Di una lotta Di una storia E questo è un archivio In espansione No Cioè LGBT I P Cioè Man mano Si aggiungeranno No Queste lotte In questo archivio In questo archivio In espansione La Q Rappresenta Una cosa diversa Che è un modo Per dire Per superare Diciamo La questione Dell'identità E Guardare Guardare Invece Qualcosa Che è fuori Dall'identità Il modo Di guardare Il mondo Cioè Questa cosa Succede Per la prima volta Non negli spazi Dell'accademia O negli spazi Ma In una manifestazione Cioè Era un pride In cui C'era questo volantino In cui c'era scritto Queer Read this Adesso Sarebbe Loci Leggete un po' qua E gli incominciò a dire A questi qua Ragazzi Ma davvero Noi vogliamo diventare Delle brutte persone Di destra Razziste Attaccate i soldi Cercare di diventare Militari Cercare di riuscire A candidarci Con la destra Conservatrice Veramente noi Cioè Vogliamo diventare Assimilabili Accettabile E diventare Quella roba lì E quindi Diciamo Loci Leggete un po' qui E queer Significa Significa ancora Questa roba qui Per noi Sì Volevo aggiungere Che Nella storia LGBT Soprattutto LGBT L'elemento Diciamo di Oggettivazione Medica È stata molto forte Cioè Sia La parola Omosessuale Transessuale Anche La questione Interessante Viene molto Da un ambiente Medico Per dire Una delle differenze Con queer È che non ha Quel tipo di percorso Per dire Proprio Il queer Appunto È una riproprazione Linguistica Di un insulto Mentre altre Sigle Altre lettere Hanno invece Una riproprazione Rispetto A una patologizzazione Quindi Per fare un esempio Rispetto ai tipi Di percorsi Che ci sono Però stanno tutti lì Mi sono molto affascinata Sempre Dalla storia Per cui Come si è creata Questa cosa qui Sì Mi permetto Di aggiungere Una cosa Su identità E costruzione Che L'omosessuale Infatti Non esisteva Prima del positivismo Che il gay E la lesbica Sono stati creati A partire Dalle patologizzazioni E dalle misurazioni Ossessive Del positivismo Prima esistevano Le pratiche Non esisteva L'identità Dell'omosessuale Incasellata Quindi C'è una storia A quello che oggi Può apparire Che sia esistito Da sempre C'è una storia In realtà Relativamente recente Per gli esseri umani Dicevano Dicevano in chat Che avevano visto Anche queer Come termine Ombrello Quindi magari C'è in realtà Forse è questo Che causa Confusione L'assimilazione Alla stessa sigla In questo caso Di una moltitudine Di percorsi diversi Che però Non possono essere Trattati E analizzati Allo stesso modo Questo emerge Ancora di più Con Con il termine Queer Che appunto Si pone In una storia In un'ottica Totalmente Cioè Diversa Fuori Dalle Dalle altre parole Che compongono La sigla E dicono Anche Queer Contro Respectability Politics Non so Come si dice In italiano Per farlo Capire Respectability Politics Vabbè Sarebbe Tutto Le politiche Del decoro Si E Magino Si E vi chiedono Anche cosa Cosa pensate Delle Identity Politics Se volete Rispondere Poi Passiamo Un po' Al libro Sì Oddio Sempre se vi va Sì Chiaro Poi possiamo passare Anche al libro Io Penso Che le soggettività Devono essere lasciate Libere Di fare Le politics Che ritengono Più opportune Rispetto alla congiuntura Che attraversano E quindi Insomma Se ci sono delle soggettività Oppresse Che necessitano Di riconoscersi Con delle altre persone Che stanno vivendo La stessa La stessa oppressione Magari In quel momento Per loro È importante Mantenere L'occhio Sulla loro identità E costruirselo Cioè Mi immagino In questo momento In Italia Un paese così razzista Per chi fa Per esempio Per chi si riconosce In quel tipo di categoria Lì Magari è importante Poi Cioè Identity politics Non significa necessariamente Un essenzialismo Queste cose qui Cioè Probabilmente Ogni soggettività Dovrebbe essere lasciata In pace Di fare Di costruire I propri percorsi Le proprie politics Costruendo certo Alleante Sì Certo Le alleanze Poi sono fondamentali Però è fondamentale Anche Essere Liberi E libere Di costruirsi Una propria identità E utilizzare Le rappresentazioni Che più si percepisce Persepisce A fine A se stesse A se stesse Comunque Allora A partire Da Da questo Che abbiamo detto Abbiamo definito Un po' Vai 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 Sì sì prego No in effetti Cioè Nino Dette una cosa Molto importante Come dire Della Della non Essenzialità E anche Del fatto Che siano Categorie Che sono Che possono valere In un momento E che ne so Possono valere Quest'anno Per dire Come Un anno Come dire Marcatore Di tempo Qualsiasi E magari Fra due anni No Perché Il problema È che Quando si usano Delle etichette Si Si pensa Che siano Eterne E assolute E invece Di prenderle Per quello Che sono Cioè Sono Delle Processi Storici Che valgono In quel momento Lì Storici E culturali Soprattutto Che valgono In quel L'italiano momento Queer 50 anni fa Aveva un significato Nel 1990 Un altro Adesso Un altro Ancora E Questo Diciamo È già un po' diverso Però Anche appunto Questa cosa Dell'identity politics Può essere funzionale Anche Perché Parliamo comunque Sempre di soggettività Marginalizzata E quindi Soggette Alla violenza Dell'etero Cisnormatività Quindi Ci sono Tutta una serie Di cose Di strumenti Di difesa Collettivi E personali Tra cui Può esserci Una cosa Che sto pensando adesso Tra cui Anche L'uso Funzionale Di una politica Identitaria Come può essere Allo stesso modo L'autodeterminarsi Come una persona Queer In quel momento Lì Sì Sì Assolutamente Poi Rispetto Al discorso Dell'etichetta È molto controverso Ultimamente Se ne parla Purtroppo In termini Negativi Perché Sembra Questa Esplosione Poi c'è Esplosione Come le potrei Intendere Io Molto più Ampie Per definirsi Ma Sembra che Usare Il micro Labeling Li aiuti Quasi Essere Meno Smarriti A Fissare Dei punti Per 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 poterli Interfacciare Meglio Col mondo Scusate Il momento Pippone Però Al contrario I ventenni Con cui Sono in Contatto Io Sono tutti Abbastanza Dentro I ventenni LGBT Più Chiaramente Con cui Sono in Contatto Io Sono tutti Abbastanza Dentro Anzi Il micro Labeling Di dare Una definizione Per ogni Cosina Ecco Diciamo Che dare Delle definizioni Perché Poi magari Il dare Una definizione L'etichetta Viene inteso Come Un voler Erroneamente Voler Semplificare Cioè Nel senso Che io Do un'etichetta Do quell'etichetta Per farmi capire Meglio Dalle altre persone Però In realtà Secondo me La definizione Serve Poi Al soggetto Per capire Meglio In primis Dove si posiziona E con cosa Si sente Più a suo agio E poi Dopo Può servire Sicuramente In ambienti Specifici Dove si è Dentro Appunto Tutti i vari Significati Però Non è che Deve essere Una cosa Complessiva Purtroppo Non può Ancora Non può Ancora Eserlo Dal momento In cui Molte parole Non sono Entrate Nel linguaggio Comune Anzi Ne abbiamo Pochissime Che hanno Lottato Per Entrarci Però Insomma Un po' Sul discorso Etichette Penso Che Che sia Un po' Questo Il discorso Sì E appunto Proprio rispetto a questo E rispetto a quello che dicevamo Sul queer Tornando Alla rappresentazione Quali sono Quindi Considerato Anche Il contesto Sfumato Comunque Fluido In cui ci muoviamo Quali possono essere Gli elementi Per Una Buona Rappresentazione Queer Insomma Tutti Gli elementi Da considerare Rispetto Alle Varie Identità E Alla Rappresentazione Di queste Identità Intanto Nina Si è disconnessa Mi sa Che Cioè È caduta Però Penso Quando Ritorno Sì Beh intanto Bisogna dire Che comunque Nel momento Che parliamo Di televisione Parliamo anche Di Strutture Di Produzione E anche Di Molto Che Sono molto Legati Diciamo A un sistema Industriale E poi Anche Che Di scrittura Ci sono Cioè Siamo dentro Un sistema Molto Determinato Cioè Che La struttura Seriale Ha delle Regole E Così Così Showrunner Cioè Sono quelli Che creano E seguono Un po' I produttori Diciamo Che guardano Un po' L'intieme Delle serie Decidono Più o meno Quanto Spaccarsi E Quanto Giocare Con queste Regole E questa È una Una Pratessa Molto Importante Perché Comunque Nel momento Che parliamo Di serie Legate In Edesiva Non c'è Una Libertà Assoluta Ma sono Sempre All'interno Di una Serie Di Vincoli Che possono Essere Di scrittura Legati Al genere Scelto Legati Al canale Legato Al tipo Di E quindi Lo sguardo Qui Innanzitutto Deve riuscire A mangiare Dall'interno Di queste Convenzioni Di scrittura L'enorme Perché Una serie Totalmente Come dire Fuori Dagli Schemi Non È Impossibile Cioè Nessuno La produrrà Perché Sta all'interno Di quella Di quel sistema Produttivo Diverso Invece Se parliamo Di altri Tipi Di Medie Come può essere Il cinema O I filmetti O La narrativa Cioè Nella serialità Televisiva È quella roba lì Di 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 Modo E All'interno Di 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 Questo Sistema Industriale Che Diceva Antonia Per Quanto Mi Riguarda Come Sguardo Cioè Che Cosa Quali Sono Gli Elementi Che Rendono Una Serie Queer Sicuramente Lo Sguardo Con Cui È Stata Scritta Sia Pure All'interno Da Rispettare Eccetera Eccetera Il Punto Di Visca Con Qui È Scritta Il Gaze Appunto È Importantissimo Ora Non ci Sono Molte Serie Scritte Dalla Alla Z Con Questo Sguardo Per Tutti i Motivi Che Diceva Antonia Si Tratta Di Andare A Ricercare A Volte Dei Lampi E Dei Guizzi All'interno Di Serie Che Sono Nel Complesso Con Uno Sguardo Molto Più Normativo Poi Magari Però Per Fare Un Esempio Di Una Serie Che Secondo Me È Uno Sguardo Super Queer Uscita Nel 2020 È Work In Progress Dove C'è di Mezzo Come Produttrice Una Delle Due Sorelle Wachowski Che Parla Di Una Lesbica Non Binaria Tipo Me 45 N Tipo Me Che E Con Un Ragazzo Tra Un 20 N Bellissimo Che Però Lei È Un Personaggio Disagiatissimo A 3000 Cazzi L'OCD L'ansia La depressione La qualsiasi E quindi Questo suo carico Da 90 Sicuramente Influisce Molto Nella storia Questa È una Gran Storia Super Queer Però È Difficile Averle Sono Piccole Produzioni Indipendenti Una Tanto Sì A proposito Delle Delle Sorelle Wachowski Mi Ricollego Per Chiedere A Nina A proposito Di Sense8 Appunto Tu parti Da Sense8 Analizzi Un po' Sense8 Sia Per Come Si Evolve Per come Viene Costruita E per Come Si Evolve La Storia Quindi Che Riesce A dare Un Certo Senso Un Nuvo Sguardo Al Modo In Cui Costruiamo Le Nostre Interazioni E Le Nostre Parentele All'interno Della Tecnologia Con L'ausilio Della Tecnologia Quindi Ponendoci Anche Come Soggetti Post Identitari Come Scrivere Il Spende Un po' Anche Rispetto Alle Premesse Con Qui È Stata Scritta La Serie Un Po' Il Manifesto Di Netflix E Più In Generale Delle Piattaforme Di Funzione Streaming Online Che Riescono A Metterci In Correlazione Guardando Avendo in Comune Che ne so Una serie Che stiamo Guardando In quel Momento Però Stando Sparsi Per Il Mondo E Quindi Connettersi Attraverso La Piattaforma Buonasera Samu Grazie Mille Per L'abbonamento E Benvenuto Qui Con Noi Stasera Ma Nina Se vuoi Se vuoi Parlarcene Un po' Allora Sense8 È Una Delle Serie Che è Stata Prodotta Nel momento In cui Netflix Raggiungeva Il Global Reach E Significa Che Praticamente Quasi Tutti Gli Stati Erano Sulla Piattaforma Questo Significa Per Me Che Avevo Un WPN Cambiato Per Poter Vedere Netflix Quando Ancora Non c'era In Italia E Soprattutto Poter Guardare Dal Catalogo Di Altri Paesi Ha Significato Che Non Si Poteva Guardare Col WPN E Che Mi Dovevo Ciucciare Il Catalogo Italiano Per Così Per Come Era Però Questo Non Era Oggetto Del Del Saggio Però È Anche Una Cosa Interessante Guardare Come È Un Momento In Cui Si Raggiunge La Globalità Della Diffusione C'è Anche La Necessità Di Distribuire Del Materiale Che Racconti Poi È Interessante Forse Anche Dire Che Netflix Non Distribuisce Non Cerca Di Cercherebbe Di Diffondere Tutto Allo Stesso Momento Ma Ci Sono In Molti Paesi L'Italia Per E Delle Regole Molto Rigide Anche Sulla Distribuzione Online Quindi Ci Dove Essere Una Parta Del Catalogo Italiano Per Cui Ci Sono Delle Cosi Assurde Su Netflix Però Insomma La Questione Interessante Era Vedere Quando Raggiunge Global Reach Produce Questa Serie Che In Qualche Moda Sembra Proprio Raccontare Quello Che Fa Netflix Cioè Raccontare Raccogliere Delle Storie Di Persone Che Sono In Dei Contesti Molto Diversi Questi Contesti Diversi Possono Essere Segnati Da Un'appartenenza Religiosa Un'appartenenza Familiare E Anche All'appartenenza A Delle Comunità O A Delle Esperenze Delle Pratiche Che Sono Nello Spettro Che Stiamo Raccontando E Interessante Tra l'altro Che Nei racconti Che fanno Su come È nata La Serie Questa Cosa Ce la Dico Anche In Prospettiva Quello Che Stiamo Attraversando Noi Si Stavano Interrogando Su come Fare Una Serie Su Delle Persone Che Stavano Lontane Ed Erano In Qualche Modo Unite Da Una Certa Tecnologia Poi Dopo Hanno Scelto L'Empatia Come Questa Un Tire Però Inizialmente Discutevano Di una Tecnologia Devo Dire Che In Questo Momento Rispetto a Quello Che Abbiamo Appena Traversato Storicamente Che Stiamo Ancora Traversando Sarebbe Interessante Rivedere Che Cosa Significa Essere Uniti Sentire Insieme A distanze Diverse Quello Che Abbiamo Fatto Negli Ultimi Mesi Le Nostre Case Sono Diventate Tutto E Soprattutto Per chi Si deve Seguire Seminari Dall'altra Parte Del Mondo Come Se Foste Una Cosa Normale Senza Non Esistesse Più Jet Leg Orario La Distanza Queste Persone Quindi Sono Unite Da Questa Capacità Di Sentire Che È Qualcosa Che Però A noi Netflix Ci dà Soltanto La Possibilità Di Sentire Ma Non Metterci Veramente In Contatto Perché Noi Apparteniamo A Dei Gruppi Per Cui Siamo In Modo Fluido Unite A Delle Persone Che Hanno I Nostri Stessi Gusti Oppure Si Riconoscono Le Nostre Stesse Rappresentazioni Guardano Le Stesse Cose Però Quello Non è Una Comunità Con Dei Fini Rigidi Perimetrati Perché Magari C'è Qualcosa Che C'è Un Guilty Pleasure Che Ci Porta A Vedere Delle Cose Che Magari Non Sono Omogenee Dentro La Cosa Il Quello Che Interessante Della Sere Probabilmente È Invece Questa Capacità Di Sentirsi Di Riconoscersi E Di Mettersi All'interno Di Un Network Che È Una Rete Emotivamente Affidabile Sostenibile Di Impoteramento Per le Persone Che Partecipano Di Soluzioni Di Conflitto E Di Gioie Anche Tante E Di Orge Anche Abbastanza Si Poteva Fare Anche Di Più E Questa Cosa Era Per Dire Che Evidentemente Questo Racconto Ci raccontano Di Altre Parentele Che Non Sono Diciamo Quelle Costruite Dal Sangue O Da Un'appartenenza Rigida Ma Del Fatto Di Potersi Riconoscere Nell'altro Nel Momento Della Gioia Del Bisogno E Di Sapere Che Questa Rete È Affidabile E Sostenibile E Credo Che Questa Sia Diciamo Un'esperienza Importante Che Le persone Loce Hanno Conosciuto In Altre Pandemie Ecco E Che Hanno Saputo Portare Poi Nella Loro Critica Antistenzialista Per Quelli Che Ci Sbattono Fuori Dalle Istituzioni Che Non Desideriamo Sì Fra l'altro Tu Poi Appunto Però Nel Tu Saggio Poni Anche Una Critica Rispetto Al Fatto Che Comunque In Ogni Caso Vi È Molta Bianchezza In Sense8 O Comunque L'essere Umano Occidentale È Posto Al Centro Di Tutta La Narrazione Cioè Nonostante Vi Sia Questa Iperconnessione Identitari In Ogni Caso È Possibile Ricondurli Diciamo Ad Un Mondo Occidentale No Ad Una Visione Occidentale Sì Era un po' Quello Che Diciamo Poi Ha perso Il Filo Raccontandovi Questa Cosa Del Barriccio Però Le Altri Contenuti Però Il Manifesto Di Netflix È Anche Quello Cioè Raccontare Per esempio Una Ragazza Indiana Completamente Incastrata Nella Rappresentazione Tra l'altro Anche Con Una Rappresentazione Super Esotizzante Cioè Questa Soggetta Etnica È Raccontata Soltanto Attraverso Le Danze Il Mangiare Sempre È Sempre Legata Al Persona In Connessione Caffius Per E Credo Che Sera Sud Africa Giusto Mi Ricordo No No Era Tipo Kenya Un Passo Del genere Adesso Mi Sta Sfuggendo Il Paese Comunque Caffius Per E Viene Sempre Diciamo Gli Succedono Le Cioè Che È Proprio Diciamo La Rappresentazione Più Stereotipata Che fa L'Occidente Di Queste Cose Quindi Se Gli Altri Suggetti Sono Post Identitari Perché Cioè Lo Sono Rispetto Alle Questioni Per La Collettività Tra L'altro Cioè Rappresentato Proprio Come Un Cristo Riverso In Braccio Alla Sua Partner E Credo Che Diciamo Questo È Un po' Più Difficile Raccontarlo Però Io Da Terrona Ho Vissuto Molto Male La Rappresentazione Che Viene Fatta Di Napoli Perché Super Stereotipata È Esattamente Diciamo La Cartolina Degli Americani Di Questa Città Do In cui Spara Insomma Sì Sì Va bene Poi Conosciamo Benissimo Chi Vuole Parlare C'era Quella Cosa Molto Grave In Francia Quando Sono A Parigi Loro Per esempio Utilizzano Esattamente La Stessa Retorica Che È Stata Utilizzata Contro Le Persone Arabe Sul Noi Non Ci Lasceremo Fermare Da Questi Qua No Diciamo Una Rappresentazione Che Poi Cioè Diciamo Se è molto Aperta Rispetto Alle Questioni Del Genere È Assolutamente Possiamo Dire Omo Nazionalista No Rispetto A Anche Il Posizionamento Politico Rispetto Alla Guerra Al Terrore Al Terrorismo All'imperialismo All'ordine Globale Certo Sì No Sulla Sulla Rappresentazione Di Namboli Volevo Dire Che Siamo Un po' Abituate A Questo Tipo Di Rappresentazione Che Investe Il 99% Delle Produzioni Che Vengono Fatte Su Napoli Specialmente Dall'estero Specialmente Dall'estero E Quindi C'è Un po' Il Solito Il Solito Cuisce In cui Si Ricate Purtroppo Dolce Gabbana Anche Cioè Era Proprio Uguale Alle Campagne Di Un Animali In Contrasto A Queste Modelli Queste Attrici Bellissime Che Vengono Lì A Raccontare La Loro Storia In Questo Contesto Folclorico Dove I Soggetti Lì Sono Degli Animaletti Per Una Domanda A Nina E A Miss Borg Se Vi Viene In Mente Una Rappresentazione Nel Prattica Fiction Di Napoli Che Vi Sia Piaciuta Che Vi Sembra Che Renda Giustizia La Città A Me Non Me Ne Viene In Mente Nessuna Però Magari A Voi Sì Più Non Lo So Mina Settembre Attualmente Non so Nessuna Una Rappresentazione Di Napoli Che pensi Che sia Che sia Fedele Che sia Fedele Non so In questo momento Non mi viene Nessuna In mente Dico la verità Tu Sai Cosa Pensavo Per esempio L'amica Geniale Hanno fatto Questa cosa Insopportabile Per esempio Di Raccontare Come Camorra Quello Che In realtà È La Violenza Di Strada Una Violenza Diffusa Della Città Che c'è Innegabile Dire Che Non Ci Sia Sarebbe Sciocco Dire Che Non C'è Il Punto Che Lì In L'amica Geniale Viene Raccontata Come Camorra Il Punto Però Che C'è Qualcosa Di Molto Intelligente La Serie Che È Quella Là Invece Di Raccontarla Evidentemente Raccontata Come se Fosse Una Scenografia No E Se Quindi Quel Posto Non Esiste No E Tra l'altro Un sacco Di Turisti Vengono Tutto Il Il Vengono Chiedendoti Di Andare A Vedere Il Rione Ma Il Rione Non È Specificato Quindi Ti Posso Portare In Qualunque Rione Della Città E Farti Contento Il Fatto Che Si Ha Disegnato E Rappresentato Come Una Scenografia Teatrale Io L'ho Trovato Molto Peccato E Io Non Ho Visto L'Amica Geniale Però Cioè Se Devo Dire La Verità Una Delle Rappresentazioni Che Però Non È Non Realista Però Una Delle Ultime Rappresentazioni Di Napoli Degli Ultimi Tempi A Mi Viene In Mente Liberato Comunque Cioè Dal Punto Di Vista Musicale Videoclip E Cetera Che Comunque Rimanda Nonostante Sia Magari Provenga Probabilmente Da Una Persona Che Vive Napoli Comunque Si Si Ricopre Di Una Patina Glamour Che Rende Che Non Fa La Rappresentazione A Cui Siamo Abituati Solitamente Vista Dall'esterno Che Però Ricopre Di Glamour Per Rendere Fruibile La Città Poi Non Solo All'Italia Ma C'è da Dire Anche Però Anche Molto Omonormativa Comunque Quello Che Viene fuori Nei Videoclip Insomma Non è Che Chissà Dicendo Dicendo Che Non è Una Rappresentazione Fedele O Che Comunque C'è Apprezzabile In questo Senso Però Era Una Delle Rappresentazioni Che Emersa Negli Ultimi Anni Che Mi Era Venuta In Mente A livello Magari Internazionale Oltre All'amica Geniale Eccetera No Sono Molto D'accordo Con ti Trovo Anche Molto Più Appropriato Dell'esempio Che ho Fatto Io Grazie Così Parlo A Bella Vista Non Mi Da Piaciuto Il Film Quello Di Crescenzo Non Sapevo Se Mi Potevo Spingere Così Dietro Però Infatti Sì Però È Un Pecchio Ecco Sì Torniamo Molto In Detro Nel Tempo C'è Andrus Che cita Anche Il Film Di Francesco Lettieri Ultras Che Non Ho Visto In Tutto Ciò Non So Se Tu L'hai Visto Nina Sono Meno D'accordo Su Questa Cosa Credo Anche Che Gli Ultimi Video Di Lettieri Che Sarebbe Il Regista Dei Video Di Liberato Siano Meno Appropriati Però Faremo Un po' Un altro Episodio Scusatemi Ma Volevo No Infatti Ne avevamo Parlato In chat Con Cicida Di Scusate Per la Digressione Però Non mi Tenevo Dal Farvi Questa Domanda No Grazie Ma No Certo Tanto Lo sai Per me Le presentazioni Non è Che Dobbiamo Dire Compra Il Libro Lo Sai No No Comunque Interessante Tra l'altro Ci sarebbe Proprio Da parlare Di Questione Meridionale Rappresentazione Eccetera Infatti È una cosa Che vogliamo Assolutamente Portare Qui sul Canale Magari Se vuoi Essere Partecipe In futuro Assolutamente Per approfondire Insomma Per approfondire Questo Questo Argomento E Sì Niente Parlare Di Questo Allora Ritornando Un po' Indietro Posso Poi Rganciarmi Invece La questione Di Sensei Queer Eccetera O Voglio Una domanda Sì Sì No Cioè Tra l'altro Mi veniva Da dire Che Rispetto Poi Alle Rappresentazioni Sulle Questioni Etniche Come dicevi Anche tu Prima È un po' Come Sempre Lo sguardo Occidentale Che Guarda Il Occidental Gates Che guarda Il mondo In questo Senso E quindi Lo rappresenta Allo stesso Modo In cui Lo percepisce Questo Mi sembra L'autocensura Evidente Nel non mostrare La sessualità Di Capius Che Praticamente Il personaggio Africano Cioè L'uomo Nero Africano Che Non Rientra Molto Nel Turbine Erotico Del Cluster Mentre Invece Come Dire La 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 Donna Indiana Sì Perché Comunque È soggetta Invece A Bell Gaze Quindi È erotizzata Mentre L'uomo Africano Non È erotizzato Non so Se Nina Si torna Questa Cosa Qui Lei viene Promossa All'orgia Soltanto Più Là E Viene Anche Tra L'altro Invischiata In Questa Triplet Molto Interessante Però Sì È una Delle Questioni Importanti Era Che Le Suggettività Cioè Era Proprio Tutte Le Persone Queer Sono Bianche Tutte Le Persone Straight Tutte Le Tutti Neri Sono Uomini Tutte Le Donne Sono Bianche No La Fidanzata Di Nomi È Nera Però Sì È ragione È ragione Però Non è Tanto Sulla Cioè È assolutamente Ragione Mi era Sfruttita Questa Cosa Però Probabilmente Non è Tanto Cioè Fa parte Un po' Della Rappresentazione Anche Di Di Quella San Francisco Cioè Probabilmente Negli Stati Uniti Quello Si può È importante Vero Anche Che C'è Un racconto Molto Violento Estruggente Della Lobotomia No La Patologizzazione Di Una Persona Trans Però È vero Pure Che I racconti Che Sono fuori Dal Nucleo Dell'Occidente Sono Anche Derotizzati Però Visto Che Donna Perché Concordo Con La Tua Analisi La Coreana Almeno Nel Flashback Scopa Mentre Invece Il povero Cafius Scusate No Fondamentalmente È l'unico Alla fine Che Che Non viene Sessualizzato Praticamente Per niente Invece Facendo Un collegamento Tra Invece Tra Sensate E Pose Mi viene Da Dire Che Ci Possono Essere Come se Ci Possono Essere Solo Un Top Di cose Un Top Di Non Devono Per Forza Avere Non Possono Disturbare Troppo Chi Guarda E Quindi Sono Molto Sono Molto Cioè L'interpretazione Che Ne Do Io È Questa Nel senso Che Abbiamo X 10 Variabili 10 Diciamo Elementi Della Storia Qualche Elemento Di Come dire Di Sicurezza Per gli Spettatori Le Spettatrici Ci deve Essere Quindi Se I Rapporti Non Sono I Rapporti Soliti Però I Personaggi Devono Essere Rassicuranti Devono Essere Cisnormati Devono Essere Belli E Belle Devono Essere Buoni Perché Sennò È Troppo Quindi Vabbè Pose Blah Il Quir Rientra Nei Nei Rapporti Tra Questi Personaggi Nella Serie Sense8 Nella Serie Pose Che Citavi L'elemento Quir Sì Per il resto Non è che Siano così Come dire Non hanno Posizione Così Antagonista In un certo Senso Sì Poi Appunto Volevamo Chiedere A A Forse Stava Dicendo Qualcosa Nina Prima No Vabbè Volevo Soltanto Dire Che In Pose Anche Io Non sono Una Grandissima Amante Però Non riuscivo A formularla Una critica Spietata Fino a Quando Blanca Non si mette A cantare Non fa Quella Grande Performance Sull'inno Statunitense E Lì Dici Vabbè Ma veramente Avevate bisogno Di ricondurre Tutta questa storia Comunque Nel coro Di voci Che deve intonare L'inno Degli Stati Uniti Perché a meno che Quella roba lì Non sia Veramente Come Cioè Quel gesto Di riappropriazione Delle comunità Cicane Che hanno tradotto L'inno Statunitense Per dire Anche noi Lo possiamo Cantare Ed è un gesto Di Sovversione Di quelle parole Invece In quella roba lì Super patinato Super patinato Quella cosa Di poter dire Comunque Alla fine Di tutto questo Comunque Anche questo Ha costruito Ha contribuito A costruire La grandezza Della nostra patria E veramente Cioè Ragazzi Anche meno Meglio Mina Settembre Allora Stavo leggendo Un po' La chat Quello Che C'eravamo Persi Rispetto A Sense8 E infatti Dicevano A me Il finale Ha annoiato Molto Per questo Motivo Sembrava Tutto Caricaturale Nella prima Stagione La seconda Stagione L'ho vista Appunto Perché Non mi Convinse La prima Quindi Diciamo Che Fondamentalmente Cioè Ci sono Ci sono stati Molti elementi Problematici Che sono Emersi E che hanno Un po' Depotenziato La narrazione Che poteva Poteva emergere All'inizio Dal principio Ragazzi Abbiamo fatto Le proteste Per aver Stavuntata Ci fate Una cacata Ossì Cioè Abbiamo fatto Poi quella Roba Insopportabile Che È fatto Tutto Come se Fosse Un dono Ai fan No E in particolare Che ritorna Quel dildo Bagnato Rainbow Io non lo voglio Cioè Io ho questa Cagata Razzista Omo nazionalista Cioè A me No grazie Sì Allora Poi appunto Cioè Allora Rispetto a tutto Il discorso Di cosa Di cosa È queer Elisa Nel suo saggio Dice Appunto La grassezza È queer Afferma Così comincia Il suo saggio Dicendo Affermando La grassezza È queer E appunto Volevamo Appunto Parlare Rispetto a In che modo La grassezza Si impone Nella Queerness Ecco Cioè Nelle rappresentazioni Cioè In che modo È stata rappresentata In questo Poi anche Negli ultimi anni Cioè C'è l'esempio Che riporti tu Anche E In che modo Appunto Il soggetto Grasso Diventa soggetto Queer Sì Le intersezioni Tu parli molto Delle intersezioni Che ci sono Sia A livello Di discriminazioni Sia a livello Di rappresentazioni Tra I soggetti Queer E La fatness Quindi Sì Infatti Inizierei Dal punto Perché La grassezza È queer Che è Una parte Della vostra domanda Che ci aiuta Poi con la seconda La grassezza In sé È queer Perché È una deviazione Dalla norma Canonizzata E Tutto quello Che non è Diciamo Norma Anche Estetica Anche sociale Ovviamente Etero Cis Normativa In quanto Devianza È definibile Come queer Quindi La grassezza È queer E Ogni Diciamo Atto Sessuale Che coinvolga Una persona Grassa È definibile Come queer E Per questo Fondamentalmente Diciamo La grassezza Rientra Nell'alveo Queer Diciamo E la grassezza È sempre È sempre stata Rappresentata Orrendamente E Infatti Io sono L'unica Tra i vari Saggi Che si è dovuta Sentire Di iniziare Il suo saggio Spiegando Il suo diritto A essere lì In sostanza Penso che sia Molto significativo Ma Io l'ho fatto Perché Pensavo Che fosse giusto Farlo Perché Mi rendevo Conto Che Poteva sembrare Non relato A chi Magari Non avesse Una conoscenza Un po' più Approfondita Dei concetti Del queer E Pensavo Di doverlo fare Ecco Quindi Ancora una volta Nella vita Giustifico La mia presenza Da qualche parte Ecco È il destino Delle grasse queer E Quindi Stante questo Le grasse Sono sempre Parlo al femminile Usando Il femminile Universale E inoltre È una questione Che Per quanto Negli ultimi anni La progressiva Oggettivizzazione Anche del corpo Maschile O con l'espressione Di genere maschile Inizi A cambiare Un po' il trend Storicamente Il corpo Oggettivizzato È quello Femminile E quindi Il valore Di essere magra È tutto Femminile In quanto Il corpo Maschile Passa in secondo Piano Rispetto Al potere Che attraversa Il soggetto Maschio Quindi Nella sua Costante Oggettivizzazione La grassa È femmina Cioè La grassa È donna Fondamentalmente Anche perché Tra le varie Caratteristiche Dello stigma Delle mille Sacertature Dello stigma I grassi A meno che Non siano Gay Bear Ma qui È tutta Una sottocategoria Una sottocultura Eccetera In cui non mi Addentrerei ora I grassi Tendenzialmente Vengono Percepiti Come Quasi Femminei In quanto Portatori Di forme Non tradizionalmente Maschili Quindi Si Dico le grasse Per tutti Questi motivi Qua Non solo Per usare Un femminile Universale Sono sempre State rappresentate Malissimo È chiaro Che non Mi spendo Neanche A dirvi La figura Materna Perché è chiaro Che l'unica Figura In cui La rotondità Corporea Fosse ammessa Era quella Materna Quindi comunque Desessualizzata E con Diciamo L'iconografia Classica No Le altre figure Sono Storicamente Tristi Sono La psicopatica Quella Con il disagio Psichico Il personaggio Bidimensionale Che ha solo La grassezza Di cui occuparsi Nella vita E la sua Tristezza Per la sua Grassezza La spalla Comica Certo Non La protagonista Non L'avventuriera Non la principessa Niente E Infatti Per esempio Nella mia Adolescenza Gli unici personaggi Grassi positivi Che ho mai visto Nelle mie Scorribande In videoteca La ricerca Di Queerness Eccetera Sono stati Quelli Dei film Di John Waters Di Vine Nelle sue varie Parti Di John Waters Era indiscutibilmente Grassa E indiscutibilmente Divina E sempre lì Ricky Lake Nella sua fase Grassa Di adolescente Nel film Air Spray Indiscutibilmente Grassa Indiscutibilmente La protagonista Sono stati Gli unici casi Di rappresentazione Positiva Che io Abbiamo incontrato Crescendo Quindi Anche quella Di oggi Per quanto Sfigata sia E lo scrivo Anche nella breve Tassonomia Di serie Scusate Tassonomia Di rappresentazione Nella breve Trattazione Di serie Non sono Da strapparsi I capelli Queste serie Tranne forse Una Però Rispetto a Una volta Come dire Almeno Non sono più La serial killer Almeno Non sono più Il fenomeno Da maraccone Ecco C'è da dire Così Come si dice A Bologna Piuttosto Che niente Non è mai Piuttosto Piuttosto Che niente E meglio Piuttosto E oggi Finalmente In alcune Produzioni Iniziano A esserci Personaggi Che sono Grassi E basta La cui Grassezza Non ha Nessuna Funzione Sono Semplicemente Esseri Umani A cui Accade Di essere Grassi Per esempio Quella Serie Con Michael Douglas Il metodo Cominsky La figlia Di Michael Douglas È una grassa La cui Grassezza Non viene mai Tematizzata Questo è un Grande esempio Positivo Per quanto Mi riguarda E per quanto Riguarda Invece Le serie In cui La grassezza Viene Tematizzata Sicuramente La migliore Quella Su cui Mi sento Di spendere Parole Più elogi È Shreem Che è Co-sceneggiata Co-prodotta Oltre che Interpretata Da Heidi Bryant Che è un'attrice Nota Soprattutto Per Lavorare Al Saturday Night Live E È Tratta Da Un memoir Di Lindy West E È una 30 something Grass Che Cerca Di Non tanto Farsi strada Quanto Sopravvivere Lavorando Come giornalista Per Un capo Gay Secco E Cattivo Come Da Da copione Diciamo E Che Ha un Percorso Di Accettazione Di sé E di Valutazione Di sé E di Impoteramento Che però Avviene In modo Rapido E Piacevole Passa Attraverso Delle brutte Esperienze Però Queste brutte Esperienze Non sono Drammatizzate Cioè Vengono Rispettate Come sua Sofferenza Ma non Sono Mai Drammatizzate Come la Fine Del Mondo Per Dire Questa È Una Serie Dove Nel Primo Episodio Lei Rimane Incinta Chiede La pillola Del giorno Dopo Gliela Danno Non È Calcolata In base Al suo Peso Non Fa Effetto Deve Abortire E Abortisce Con Relativa Serenità Pam Pam Il primo Episodio Ok Ecco All'inizio All'inizio della serie Lei ha questo Scopamico Che si vergogna di lei E la fa uscire Dalla porta posteriore Quando rientrano i secco inquilini E lei scavalcando la staccionata del giardino sul retro Cade Ecco In questo momento molto patetico Abbiamo il suo punto più basso probabilmente Da quel momento in poi sarà una risalita Lei ha una sorta di folgorazione simbolica Vedendo una bella donna grassa tutta vestita di rosso In un negozio di fiori E vedendo Come dire La sua assertività corporea Il suo portamento La sua bellezza È come se avesse Un'agnizione Nella comprensione di sé Di quello che può essere E del rispetto che deve portare a se stessa Però questo è sempre affrontato In modo Diciamo Mai Mai piangendosi addosso Mai vittimizzandosi Come per esempio La grassa di una serie che si chiama This is us Per me è insopportabile Io la ucciderei con un bazooka fondamentalmente Perché è devastata dalla vita Perché è grassa e basta Fondamentalmente Questa cosa di liberarsi da un personaggio serial killer Anche i personaggi trans Da silenzio e gli innocenti Che c'era Tipo Il serial killer Mi sa che è ripreso da Jeffrey Dahmer Se non sbaglio La mia parte fan Dei serial killer Si sta vergognando Ma non so Ma non so Che serial killer Ha ispirato Quello di silenzio L'innocente Si si Come una Una deviazione Poi dalla norma Che ti porta A commettere Azioni Si A uscire fuori di testa E a commettere Cioè omicidi Stupri Torture Si Ebbene Nel silenzio degli innocenti E come Cioè la persona Che Scuoia letteralmente Il corpo delle donne Per metterselo addosso Quindi una rappresentazione Assurda In quel caso C'erano delle domande No Scusami Elisa Come si chiama la serie Di cui stavi parlando prima Che dicevi che aveva Una rappresentazione Chiedeva nel chat Ho dimenticato il nome Si chiama Shrill E lo spelling È S H R I L L Ok L'abbiamo scritto L'hanno riconfermata Per una terza E ultima stagione Però sono molto felice Che ci sia Una terza stagione Sì C'erano delle domande In chat Se non sbaglio Allora Allora Poi Questo era per Pose Un commento di Dolmen Le serie di mafia Hanno il difetto Di concedere molto Al pubblico generalista E forse anche per questo Negli anni sono andate Sempre peggio Sì Vista l'occasione Che ne pensate Di quegli elementi LGBT Celebrativi Nelle serie La domanda La rifarò Soprattutto per Tales of the City Poi la bruttezza Grazie mille per l'abbonamento Personale La pongo come domanda Perché ho ricevuto Varie testimonianze Su questo Ma non voglio Non posso farne Un'induzione Sociologica Vabbè Da cosa Cosa vogliamo Iniziare Sì Abbiamo letto Un po' di domande Che c'erano in chat Forse vi abbiamo Un po' Fatto scoppiare la testa Non lo dovete ridire Perché io già Non mi ricordo Le prime Ok Sì Sì È vero L'abbiamo lette Troppe Tutte insieme Sì Allora Partiamo da questa La bruttezza Opposta All'obbligo Di accettazione Della propria Bellezza Come promossa Dai social Può essere Quindi da tutti Gli ideali Che ci vengono Provinati Anche Non solo Sulla fisicità Ma anche Sulla bellezza In senso ampio Può essere Definita queer Può rientrare Nel queer Ci deve rispondere Chi vuole Chi vuole Chi vuole Io aspettavo Che rispondessi Come ti sa Va bene Rispondo Su questo E poi No no Dico che Posta In questi esatti termini In cui è posta Rispondo di sì Però poi Vorrei anche Discutere Che cos'è La bellezza Che cos'è La bruttezza Perché sono Dei costrutti Culturali Pazzeschi Che sono Che sono Noi Noi Oggi Pensiamo Di sapere Che cosa sia La bellezza Abbiamo Ideali di riferimento Almeno Per farlo Per l'Occidente Che è l'unica cosa Che conosco Quindi mi sento Di parlare Di quello E crediamo Che sia sempre Stata Questa L'idea Di bellezza Quindi Cosa sia La bellezza E cosa sia La bruttezza Dei corpi Penso che sia Diciamo Una cosa Su cui potremmo Discettare Per ore Ci sono Parametri Innati L'occhio Umano È Diciamo Settato Per apprezzare La simmetria O Almeno A livello Della simmetria Dei volti E dei lineamenti Ma per il resto Che cos'è Bello Che cos'è Brutto Per quanto riguarda Poi la grassezza Anche Diciamo L'orrore Per la grassezza E lo stigma Sessuale Per la grassezza Crescono A partire Diciamo Dai primi Del novecento E Crescono Per Una serie Di motivi Non Ultimo Anche Quello Legato Alla Razializzazione Della grassezza Nel senso Che I corpi Delle donne Afroamericane Dell'epoca Tendevano A essere Sicuramente Più Rotondi Dello Standard Di bellezza Di Discendenza Europea Che c'era Per Per le Americane In quell'epoca E Per Una serie Di vari Altri Intrecci Diciamo Si arriva Poi Anche a Questo Che uno Degli elementi Dell'odio Per la Grassezza È Comunque Il risultato Della Razializzazione Dei corpi Delle donne E poi c'è stata Anche comunque Negli ultimi Negli ultimi anni Una appropriazione Culturale Tra virgolette Di quella Di quello che può essere Definito Le forme Dei corpi Dei corpi Neri Cioè Quanto Gli ideali Di bellezza Che vediamo Oggi Hanno comunque Delle Delle forme Molto Accentuate Di femminilità Che riprendono Un po' Quello che è Stato Rigettato Fino a Questo Momento Mi aggancio A questa cosa Qui Invece Rispetto Alla Questione Di bellezza Rispetto Ai corpi Trans Che Ovviamente Cioè Ovviamente Cioè Quanto Quanto più Una persona Trans Ha un passing Alto Quanto più Considerata Bella Anche Se Cioè Nel senso Che Deve Deve Ci sono Due valori Diciamo Da raggiungere Uno È il passing E uno È il valore La bellezza Canonica Di genere Per cui Una donna Trans Non solo Deve Passare Molto Ma deve Anche Essere Molto Bella E quindi Soprattutto Per le donne Trans È molto Difficile Da Sostenere In un certo Senso Molto Bella Che poi Si Si Riconduce Comunque A molto Femminile Cioè In questo Caso Poi Cioè Se Vediamo Sia Che ne so Appunto Tutte le protagoniste Di pose O anche Il personaggio Non mi ricordo Il nome Che sta Di Intrautoria Successo Tutte Bellissime Non c'è Più Quella Come dire Quell'elemento Di rottura Rispetto Alla Gisnormatività Rispetto Anche Alla Rottura Dell'idea Di Bellissime Un complimento Indiretta Un po' Quella Di Euphoria Ti assomiglia Come lineamenti Del volto A me Si Passo Chiudere Tra l'altro C'era anche Una domanda Su Euphoria Colgo L'occasione Per leggerla Appunto Chiedevano Se il personaggio Di Kat Può essere Considerata Una relazione Positiva Quindi Per Kat Penso Per Lisa La domanda Si Che non si chiama Kat Come si chiama Mi ricordo i nomi Si si Penso Penso di si Penso sia Kat Si Penso Vediamo un attimo Si Per Elisa Ah ok 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 Si 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 Ok scusate Un po' Confusione Con i personaggi Allora Comunque Anche Anche rispetto Alla narrazione Trans In Euphoria Antonia Se vuoi rispondere O anche Nina Che ormai La vediamo Col bicchiere di vino Che si è Accomodata E di Sorsi Sì Fa una bruschetta In un occhio Guardate Chi vuole rispondere Tra voi Una domanda specifica Su Euphoria A parte quella di Kat Dato che c'era La domanda di Kat Avevo confuso I due personaggi Però appunto C'è anche Rispetto Alla La narrazione Trans C'è come Come la rappresentazione Trans Io la trovo Molto Per svia Perché Ovviamente Allora La cosa positiva Che sto vedendo È che Ci sono Sempre più serie Corali Uno Un personaggio Trans E che quindi Vengono anche Come dire C'è un tipo Di socializzazione Che è diversa Non c'è il personaggio Trans Che è tipo Da solo Di un universo Come ad esempio Una cosa che ho notato Molto In una donna Una mujer Fantastica Adesso al titolo Italiano Non mi ricordo Che è un film Molto bello Però la protagonista Era completamente Di sola Cioè Sono una vale Gavi sociali Invece Queste nove serie Come ad esempio Appunto Euphoria O anche Un'altra serie Che ho visto Dispatches From Elsewhere Che c'è Una Di quattro Protagonisti È una Donna trans E comunque Sono inseriti In dei rapporti O anche In sensate In rapporti Con persone cis E come Di solito Viviamo nel mondo In senso Abbiamo dei rapporti Sociali Con le persone Però C'è sempre C'è la storia Diciamo Di Jules Da piccola Eccetera Perché comunque La storia Drammatica Di come Una persona trans Diventa trans C'è sempre Perché Non può Eserci Una Cioè Gli altri personaggi Possono Non avere un passato Ma Ma il personaggio trans Ce l'ha sempre E E poi anche Il suo corpo C'è il fatto C'è una scena Molto bella In cui ci sono Lei E E Zendaya Che sono Corrigato Sul letto In cui si vede Chiaramente Che Jules C'ha Il pico Insomma Dico pico Perché non so Cosa Si può dire Su Twitch Si può dire Si può dire Ok Ed è molto Normalizzata Certo Quella è sempre La solita storia Di adolescenti Amerigani Quindi Anche Basta Io su Euforia E la grassa Di Euforia Devo dire Approfitto Per dire Un paio di cose Ammetto Che non ho Ancora Finito Di vederlo Perché Mi metto Un certo Stesso Di malessere Personalmente E Un'altra cosa Che volevo dire Mi sono dimenticata Mannaggia Comunque sia Ah sì Che anche Come la trans Rappresentata Alla tv Deve essere Una trans Bella Con un altissimo Passing Bella Secondo i canoni Della Espressività Tradizionale Del genere Femminile Etero Normativo Bidi bimbi Boma Non dico Bella in assoluto Casomai qualcun Se lo chiedesse Così Anche le grasse Rappresentate Comunque Sono Anche in tutte queste Serie O cose Che abbiamo citato Sono grasse Accettabili Cioè Sono grasse Accettabilmente Grasse Che non Vengano Diciamo Considere I cui corpi Siano Sì Devianti Però Non così tanto Devianti Da ferire L'occhio Tipo Vite al limite Di real time Per capirci Ok E Sono Per lo più Bianche Sono tutte Cis Sono Praticamente Tutte etero Fondamentalmente Quindi Passa la grassezza Però Non può passare Altro Ecco Perché Sennò Sarebbe Troppo Ecco La grassezza Di Euphoria Cut Per questo Ho visto Io Finora Nella serie Rispetto Alle serial Kinder Ce ne Fossero Di Cut Ripeto Almeno Se fossi Una ragazzina Grass Direi Small Barra Medium Fat Al massimo Questa Ragazzina Di Euphoria Un Esempio Di Una Che Una Soluzione La Trova Ce L'hanno La Sua Soluzione Chiaramente Però Appunto Molto Negli Ambiti Della Femminilità Tradizionale Che Per l'amor Di Dio Non c'è Niente Di Male Però In sé Per sé Però Io Non riesco A fare A meno Di Rilevarlo Quanto Meno Nel Senso Quei Diventa Il Soggetto Attivo Che Induce Negli Altri La Sua Oggettificazione Sessuale Quindi Se lo Cerca Però Risolve Il Suo Problema Di Disagio Da Grassa Iper Sessualizzandosi E Iper Femminilizzandosi Che È Una Delle Risposte Classiche Delle Ragazze Grasse Cioè Performare Con Al Massimo Della Performance Di Genere Possibile Essere Sempre Curatissima Sempre Col Trucco A Posto Sempre Coi Capelli Fatti È Una Delle Classiche Strategie Grassa Per Sopravvivere E Attenuare Un po' Lo stigma Dei Suoi Confronti E Far Dire È Grass Ma Quindi Da Questo Punto Di Vista Euforia Si Non è Male Per L'amor Del Cielo Ma Non è Certo Niente Di Rivoluzionario Ecco È Più Rivoluzionario Shrill Da Questo Punto Di Vista Comunque Devo confessare Una cosa Quando ho sentito La domanda Mi sono posta Così Perché c'era Elisa Manici In questi giorni Che smadonnava Su facebook Contro Euforia Quindi volevo Vedere No Ma quando mai No Era Il post di Valentina Eh Era Il post di Valentina Quella Il post di Valentina Greco Che diceva Sapete perché C'è una sola Grassa In folio Ma che era Perché c'era Una roba del genere Sì Mi ero persa Le smadonnate Quindi Meno male Che è stata fatta La domanda Avevi commentato Avevi commentato Molto causticamente Ti avevo letto E quindi Ero lì Pensavo Adesso Vedremo Ero tipo Garganella Con il gas In mano Scusate Beh Sono facile Da accendere Qui i bottoni Basta schiacciarli Tac 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 Così Sì Senza Senza parlare Di metafore sessuali I bottoni No Allora C'erano Qualche domanda Forse ce la siamo persa Comunque ci siamo Dilungate Un bel post Stasera Quindi Se siete Stanche Magari Volete Staccare Tra poco Sì Magari Appunto Tempo di Qualche altra Domanda Magari Poi Chiudiamo Ecco Sì 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 Però Cioè Ci sono Delle Delle Conclusioni Importanti A congiungere Dato Tutto Quello Che abbiamo Detto Finora In parte Abbiamo Già Risposto Però Appunto Cioè Mettendo in fila Un po' Tutti i ragionamenti Come Migliorare Appunto La rappresentazione Della Queerness Nelle serie tv E nei media In generale Appunto Due Delle Soluzioni Che Emergevano Sia In generale Nel libro Ma anche Nel saggio Di Elisa E la questione Dell'agency Quindi Del Permettere Alle persone Queer Di raccontare Le proprie Storie Di scrivere Le proprie Storie Di mettere In scena Le proprie Storie Oltre Alla Questione Della Pluralità Quindi Del Moltiplicarsi Delle Storie Che hanno Al proprio Interno Dei personaggi Queer In modo Tale Da Non Focalizzare L'attenzione Su Determinate Rappresentazioni Che diventano Poi Di conseguenza Stereotipate Chi Chi Vuole Iniziare Vedo Nina Pronta No No Sto Prendendo Appunti Ok Ok Stavo Rispondendo A Zenzero Che mi chiedeva Di questo film Alice O Alice Junior Che ho visto Camenti Di Pergenti L'anno scorso Che però Non l'ho Visto L'anno scorso Di Pergenti L'hanno fatto Online Invece ho visto Due documentari Molto belli Che sono Indianara E Bish Tavesti Indianara Tra l'altro Ancora su Movie Vuole vedere Che Però Sono appunto Documentari Quindi Diciamo che Noi Stiamo Sia in Queer Gaze Ma poi Stasera Parliamo Di Rappresentazione Di Fiction Ed è Proprio Stiamo Su un altro Tipo Di Narrazione Quindi Perché Poi C'è Tutta Come Dire La Questione Documentari Ma anche Reality Che Che è Proprio Un altro Tipo Di Un altro Tipo Di Discorso Anche Rispetto Che ne so Alle Drag Per cui Nina Ha scritto Molto Nel suo libro Di Drag Anche Fa finta Di niente Però È così Ma non ti volevo Interpellare Sui drag Era così Ti stavo Sponsorizzando Al caso Grazie No Forse Rispondo Forse A questa Domanda E Vabbè Una cosa Forse la dovevo dire Prima Comunque Sulla rappresentazione Criminale Delle persone LGBT C'è Un documentario Storico Non lo stavo citando Perché appunto Era un documentario Però visto che ne sono stati citati In altri Altri Che si chiama The Cellular Closet Che è preso da Un romanzo Di Vito Russo Che racconta molto La storia Delle persone LGBT Nella rappresentazione E sono quasi tutti Abbiamo tutti quanti Iniziato la nostra carriera Da criminali Assassini E serial killer Quindi diciamo Purtroppo C'è stato privato Il diritto Di essere anche Cattivi E L'altra cosa Volevo dire Che Anche io Credo che sia Una questione Di agency O piuttosto Diciamo Questa è una delle cose Che provavo Cioè Che provavo A dire altrove No Che Cioè Noi stiamo guardando Un grandissimo Coming out Collettivo Il punto però È che Un outing Più un coming out Cioè Soprattutto all'inizio Non sono state Le soggettività A prendere parola Per sé No Ma che sono state Raccontate Il punto è che L'agency Non si concede Cioè L'agency Esiste già E Il punto però Quello che a noi manca È La materialità Cioè Ovviamente Le soggettività oppresse Sono quelle che Difficilmente Riescono A potersi raccontare Perché hanno Minore accesso Alle possibilità Di poter produrre Di poter distribuire I propri materiali E questo non riguarda Soltanto le serie tv Credo che riguardi L'editoria Credo che riguardi Un po' Tutto C'è la possibilità Di potersi raccontare Sembra quasi Che noi non eravamo Capaci E che aspettavamo Qualcuno Che ci permettesse Di farlo Ci concedesse Di farlo Ma il punto è Avere la possibilità Di accedere Alla Alla produzione E alla distribuzione Perché poi ci sono anche Tantissimi materiali Molto belli Che non sono Non sono distribuiti E O ancora peggio Per esempio Io sono Quale programmer Di un festival Molto bello Che è stato citato prima Che è Sun Prefer Cake E per esempio Non si riesce A trovare Mentre c'è Molto 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 materiale Anche molto bello Nei documentari C'è pochissimo Di fiction Molto molto poco E perché Innanzitutto La fiction Lesbica Va Cioè Se è un buon prodotto Va direttamente Sul mainstream Non gira più Per i festival Cioè Ha una grande Distribuzione Quindi non ci sono più Cioè Proprio noi Come comunità Siamo capaci ancora Di immaginarci E di Come comunità lesbica In questo Di immaginarci Di inventarci Di Immaginarci altrove Che non sia In un passato Cioè Non so se avete notato Tutti i film lesbici Adesso sono ambientati Nel passato Cioè Noi vogliamo una roba Ambientata nel futuro Cioè Vogliamo Vogliamo La space Lesbica nello spazio Lesbica nello spazio Questa è una Quella che ha dovato No? Infatti A proposito Di lesbiche nello spazio Una roba Io curavo Un piccolo festival Che non esiste più Che si chiamava Soggettiva E un anno Aprimmo Con Un film In bianco e nero Volutamente In bianco e nero Lo fai Eccetera Eccetera Che parlava Di lesbiche Aliene Che venivano Dallo spazio Faceva la parodia I film di fantascienza Degli anni 50 E Ce ne vorrebbero Di più Era stato Un una tantum Quel film lì Praticamente Tipo una roba Mars Lesbine o Mars Sì Una roba Così In questo momento Non mi sovviene Il titolo Lo troverò E lì Ce l'hai ancora Io l'ho cercato Un po' Quello Forse Ci devo avere Qualche DVD Masterizzato In qualche angolo Della casa Forse Quindi potrei Potrei procurartelo Probabilmente Io la questione Dell'agency Approfitto Per farmi un discorso Sono d'accordo Con tutto quello Che ha detto Nina E Approfitto Per aggiungere In quanto persone Queer E anticapitaliste Ci fa schifo Il sistema Capitalista Ma c'è la contraddizione Che per poter incidere Davvero Nell'immaginario Delle maffe Per quanto riguarda Dalle nostre soggettività Dovremo Dobbiamo poter accedere Ai mezzi di produzione Cioè Integrarci maggiormente Nel sistema Capitalista È una roba Da questo punto di vista Senza via d'uscita Nel senso Non c'è una soluzione In ogni caso Anche se Vieni rappresentato bene Hai sempre La consapevolezza Di aver venduto L'anima al demonio Quindi Non c'è una soluzione L'unica La soluzione È appunto Rimanere Ai margini Però appunto Rimanendo ai margini Hai meno capacità Di incisione Sicuramente Alla Alla lesbica Quattordicenne Che sta Rocca cannuccia Le arriva più facilmente La produzione Di Netflix Che non I film Che girano I festival Che pure Ci piacciono tanto Capito Quindi Anche se Riusciamo a fare Una rappresentazione Di rompente È comunque Importante Che ci sia Però non arriva Mai al mainstream Per arrivare Al mainstream Se ci vuoi arrivare Ti devi sporcare Le mani Fondamentalmente Infatti Rispetto Vai Prima tu Antonia Vai Mi ricordiamo La precedente Come si dice Presentazione Quando c'era C'era anche Federica Fabiani Sui personaggi Brutti E cattivi Delle serie A meno Il fatto Che ci possano Essere Delle personaggi Lesbiche Negative Non Mi direi Non ha Non ha Influenza Sulla mia vita In realtà Secondo me Questo È Un buon Cioè Io spero Che ci siano Più personaggi LGBT Negativi Cioè Solo così Riusciamo A uscirne Cioè Ad uscire Proprio Da questa cosa Didattica Del Siamo Siamo Esseri umani Come voi Tipo Degli orsetti Del cuore Cioè Quindi Solamente criminali O solamente Degli orsetti Del cuore Può essere Anche Orsetti Del cuore Criminali Ecco Sì Sì Di fatti Di fatti Pensavo Proprio a questo Prima Mentre parlavate Voi Appunto Cioè Ecco Pensavo Appunto A un personaggio Qualsiasi LGBT O Appunto Cioè Queer In generale Che però Viene ritratto In una Qualunque Narrazione Magari Omonormativa Però appunto Come un killer Come Semplicemente Appunto Un personaggio LGBT Cioè Non è Diciamo Cioè Sì È importante Appunto La La sua identità Però ecco Viene soltanto Ritra Cioè Viene Si inserisce Anche Anche Esso In quella In quel Tipo di narrazione Sono Assolutamente D'accordo Però Al contempo Vi ricordo Che in questa Fase storica Degli ultimi anni Siamo a che Le lesbiche Hanno sostituito Il comprimario Nero Degli anni 70 E 80 Come Comprimaria Che muore C'è anche Una statistica In merito Prodotta Da GLAD Che è L'organizzazione Americana Che monitora Le rappresentazioni Mediatiche E che tra parentesi Fondò Vito Russo Che ha citato Prima Nina Insieme a due Americane Prima di morire Di AIDS E Anche perché Poi Cioè In questo caso Questi Personaggi LGBT Vengono inseriti O in questo caso Personaggi lesbici Vengono inseriti Cioè Finalizzati Alla narrazione Quando Cioè Quando Esauriscono Il loro ruolo Nella narrazione Vengono Uccisi Come è successo A tantissimi altri personaggi E le giubittine Nel corso Della storia Cioè Dove La loro identità È finalizzata Solo Alla scelta Del personaggio Principale Che poi Solitamente Sempre Classico Maschio Bianco Eteronormato Sì Vengono Promossi Dall'altro capo Del mondo Sì Ciao E rispetto alla questione Delle agency Tornando prima Le rappresentazioni Eccetera È importante E al discorso Anticapitalista Come giustamente Diceva Elisa La tendenza Che abbiamo visto Negli ultimi anni È stata L'assorbimento Delle Delle Narrazioni LGBT Da parte In questo caso Particolare Della piattaforma Netflix Che si è Proprio Proposta Imposta Come piattaforma Appunto Con le proprie Produzioni Che porta avanti Queste politiche Di inclusività Includendo All'interno Delle proprie Produzioni Personaggi LGBT E quindi Queste politiche Di inclusività Che però Come abbiamo visto Comunque Riscontrano Molte Molte Limitazioni A partire Cioè Da un discorso Più in generale Di rainbow washing Che non investe Solo Netflix Ma In generale Tantissime aziende Che magari Durante Il mese Del Pride Si vestono In quel modo Perché Si sono rese conto Che le persone LGBT Che le persone Queer Esistono E sono Potenziali Clienti Per I loro Prodotti Quindi Assistiamo All'ennesima Volta Ad un assorbimento Da parte Del sistema Di Alcune Narrazioni Poi È chiaro Che queste Narrazioni Devono Essere Sempre Rese Fruibili Come dicevamo Durante Tutta la puntata Al fatto che Comunque Si tende Sempre A non Porre A rendere Il personaggio In generale È fruibile Cruibile da parte Dello spettatore In quel momento Quindi Che non ecceda Di Queerness E di alcune caratteristiche Che devono essere Sempre Comunque Ben pesate Ben pesate All'interno Di uno schema Accettabile Al pubblico Quindi Semplicemente Si vede Comunque I limiti Ecco Di Queste Narrazioni Di queste Rappresentazioni Che Comunque Tendono Sempre Ad allinearsi Ad un sistema Etero Scisnormato E quindi Resi Accettabili Allineandosi A quel sistema Non so Qual è la domanda Però Sì Sì Scudiamone Mi sembra Che Sei riuscito A ricostruire Il filo Delle cose Che ci siamo dette Che un po' Ad esempio C'ha preso Che dice È una strumentalizzazione Secondo me Non è Solo Una strumentalizzazione Nel senso Dividere Nettamente Cosa è Strumentalizzazione E cosa Invece È una rappresentazione Sincera E partecipata È molto difficile Però Sicuramente Ci sono Entrambe le cose Sì Più che altro Appunto Mi viene in mente La tua introduzione Antonia Quando dici Che Su queste piattaforme Vi è maggiore varietà E non inclusività Perché inclusività Appunto Significa Essere subordinati Appunto Alla narrazione Dominante Ecco L'inclusività Di base C'è Implica Che qualcuno C'è un agente Di inclusività C'è qualcuno Che ti deve dire Entra Sì Ti include Per questo Secondo me Cioè in generale Parlare di inclusività È molto pericoloso Perché in realtà Non è Vuol dire È una cosa Che Come è che ci sia Una cosa Di disparità Ancora più evidente Cioè Sì Inclusività È un termine Estremamente Problematico Quindi C'è Infatti appunto Usavo inclusività Proprio per Cioè Ricondotto al discorso Di Netflix In questo caso E del capitalismo Poi appunto Inclusività Chiaramente Ha un'accezione Molto negativa Se ne parliamo In termini Sì Riappropriazione Di Cioè Di utilizzo Di un termine Per descrivere Perché Cioè Non è che Si vuole essere Inclusi Ma Appunto Sì Perché Significherebbe Misurare L'inclusività Rispetto a Quanto Si viene Inclusi In quello Stesso Sistema Normato Ecco Sì Beh io Non so Direi che Abbiamo fatto Una Un po' Tutta una panoramica Rispetto a Queer Gates Sì Poi chiaramente Ci sono molte cose Che non siamo Riusciti Riuscite a Trattare Sì Questa sera La prossima settimana Ci sarà anche Un'altra presentazione Sulla pagina Di Nora Book Se non sbaglio Ricordateci la pagina Sì Interverranno Anche altre autrici Ok Sì Venerdì prossimo Venerdì prossimo Ci saranno anche altre autrici Che parleranno Dei loro Saggi Noi stasera Abbiamo avuto Nina È un libro Comunque breve Però Cioè È veramente Veramente Molto Molto Intenso Comunque Cioè Cioè Veramente Sì Veramente Molto Intenso Infatti È breve Ma è sempre Piccolo Ci siamo Ci siamo Veramente Dilungate Dovevamo fare Un po' Meno Però Spero Che vi siate Divertite Vi abbia fatto Piacere Stare con noi Se ci sono Se c'è qualcosa Che volete aggiungere Mi dispiace Non aver Non aver risposto Scusami Elisa Non aver risposto A tutte le domande In chat Però appunto Cioè Magari su alcune Su alcune cose Meriterebbero Si meriterebbe Di fare un approfondimento Specifico Anche rispetto Ad alcune domande Che chiedevano In chat Prego Prego Elisa Prego No volevo dire Solo una cazzata Cioè Che io adoro Nina Ma la vedo Infatti Solo alle presentazioni Per cui Evviva Che abbiamo fatto Questa presentazione Io non vivo più a Bologna Però Elisa Lo so Ah ok No pensavo Che non ci incontriamo più No no Lo so che non ci incontriamo più Ci incontriamo solo A queste presentazioni Di Queer Gaze Per cui Passiamo a farci Delle Skype D'amore Senza intrattenere Tutti gli altri E' vero Le attrici di Queer Gaze Sono un po' come Cluster di Sense8 Praticamente Sì E' una parte d'arte Ecco Hanno tutta la sindrome Premestrale insieme Anche tu Io ce l'ho sempre Esatto Bene Quindi Direi che Vi ringrazio Di nuovo Ci salutiamo Per la Prima 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 Abbiamo Un po' Recuperato Questa sera Senza problemi Tecnici Per fortuna Tutto bene Si si è andato Tutto molto bene La diretta Verrà ricaricata Su Youtube Per chi vuole Recuperarla E insomma Grazie mille Davvero Niena Elisa E Antonia Per essere state Qui con noi Grazie Acquistate Queer Gaze Sì Sul sito Di Asterisco Edizioni Grazie A tutti Chi ci ha seguito Stasera Chi ci ha sostenuto E E niente Ci vediamo Lunedì Grazie Grazie mille A tutte Buonanotte Buonanotte Ciao Grazie Ciao Grazie